Partiamo subito dalla riete. Una questione non chiarita in passato minaccia l'armonia familiare. Inutile chiedersi di chi sia la colpa, è essenziale invece procedere verso una soluzione che porti chiarezza e serenità. Toro, le stelle guardano con simpatia quanti di voi lavorano in squadra con altri, regalando una vivacità e una forza che saranno un esempio trascinante per tutto il gruppo. In ambito affettivo, non accontentatevi di quello che c'è. Gemelli, una vostra idea o una vostra intuizione potrebbe rivelarsi vincente e consentirvi di risolvere una vecchia questione forse a carattere finanziario. Qualcuno investirà denaro in un immobile. Cancro, finalmente decisi, pieni di grinta, persino aggressivi se necessario. Nulla vi spaventa oggi, nessuno vi può fermare. Qualunque sia la vostra attività professionale, dimostrerete di saper macinare quantità incredibili di lavoro. Leone, la mancanza di voglia di tornare al lavoro e di piccoli contrasti con le persone vicine, non devono spingervi a gettare la spugna davanti a questo lunedì e a un mondo che a vostro avviso non vi capisce. Le cose cambieranno. Vergine, si prevedono uscite economiche importanti, ma anche un certo recupero di denaro che vi darà modo di ristabilire un certo equilibrio. Le buone occasioni nel lavoro sono a portata di mano. Bilancia, potrete mettere a segno qualche buon affare o migliorare la vostra posizione professionale. Buona giornata anche dal punto di vista affettivo, non solo perché l'intesa col partner sarà perfetta, ma anche perché vi sentite in grado di dare il meglio di voi nel rapporto. Scorpione, lasciate perdere eventuali contrasti con il partner. Avrete tempo di chiarire ciò che non vi piace nei prossimi giorni, quando anche le stelle saranno dell'umore giusto. Sagittario, sopra il capo avete buoni astri. Sotto il profilo lavorativo non opporrete resistenza alle novità, perché state procedendo verso un futuro luminosissimo. Le stelle rendono appagante anche il vostro rapporto affettivo. Capricorno, si prevedono alti e bassi d'umore. Il partner è distratto o impegnato su altri fronti, il lavoro vi dà problemi e il denaro non entra nella quantità desiderata. Mantenetevi calmi e troverete soluzioni a tutto. Acquario, le stelle faranno fiorire i guadagni e i vostri impegni sociali. Vi consentiranno di segnare punti nel lavoro, tenerezza, desiderio e passioni invece si amalgheranno in modo assolutamente straordinario per chi è in coppia. Pesci, in una situazione astrale così promettente e dinamica, si direbbe che il vostro scopo principale in questo momento sia quello di far soldi ed ottenere approvazioni e riconoscimenti. Approfittatene, gli astri che contano vi sostengono.